Una situazione in lieve miglioramento ma che necessita ancora di attenzione e richiede soluzioni condivise fra comuni confinanti e amministratori locali ed operatori economici. E' questa l'istantanea che la goletta dei laghi di Legambiente ha scattato nel corso del monitoraggio sulla qualità delle acque del lago piccolo di Avigliana, che a differenza del grande rimane non balneabile a causa dell'eccessiva carica batterica. I risultati del monitoraggio sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in riva allo specchio d'acqua, mentre i volontari di Legambiente effettuavano un controllo accurato sui rifiuti presenti intorno al lago, raccolti ed esaminati per capire quali sono i materiali maggiormente abbandonati. Quest'anno risultati lievemente migliori qui al lago piccolo di Avigliana rispetto ai campionamenti dell'anno scorso? Esatto, passiamo da tre punti che erano risultati fuori dai limiti nel 2021 a solamente due punti nel 2022 che risultano inquinati e fortemente inquinati. Parliamo di inquinamento batterico, quindi inquinamento che potrebbe derivare dalla fertilizzazione di coltivazioni a monte di questo lago? Sì, le analisi che vengono effettuate, in questo caso da ARPA in collaborazione, riguardano la conta dei scherichi a coli e interococche fecali, quindi batteri che in qualche modo possono evidenziare la presenza di scarichi illeciti o come anche di malfunzionamento nella rete fognaria. Nel Lago Grande è stata strategica la possibilità di filtrare tutti gli scarichi di realizzare un collettore fognario. Bisognerà fare qualcosa di simile anche in questo piccolo o ci vorrà un lavoro diverso secondo legambiente? Il problema sicuramente può essere affrontato sotto diversi aspetti, crediamo che il contratto di Lago che di fatto mette insieme le amministrazioni, i lenti locali come i comuni cittadini sia lo strumento sicuramente migliore e più efficace per cercare la soluzione ottimale per questo problema. Gianfranco Guerrini, consigliere metropolitano delegato all'ambiente, oggi la necessità di fare sistema perché l'inquinamento può alicare i confini comunali e quindi il contratto di Lago è una realtà che qui sta funzionando. Sì, il contratto di Lago è una forma che città metropolitana ormai da tempo, dal 2017, è stato firmato tra enti locali, quindi quattro comuni che fanno riferimento ai laghi che noi definiamo di Avigliana ma che in effetti hanno altri comuni che insistono su questi laghi e enti privati. Crediamo sia l'aspetto fondamentale perché l'ambiente è un discorso di territorio, non può essere un singolo comune che risolve, invece territorialmente con diversi attori questo possiamo sicuramente cercare di migliorare. Il compito della città metropolitana è insistere su questi contratti ma soprattutto sulla collaborazione fra i diversi attori perché credo che sia importante che il territorio, come dicevo prima, ne abbia un beneficio complessivo. Quindi i laghi di Avigliana in questo caso sono la parte terminale ma abbiamo tutta una serie di altri territori che insistono sulle parti a valle. E' importante questo lavoro e credo che sia fondamentale proprio il fatto che gli interessi debbano essere in qualche modo di tutti e non soltanto di una parte.